e popolo dedicato ai mister Topolini io sono mister Rocco lo sapevi? Sì. Lo sapevi? Tu invece sei l'aspirante mister numero? Ventisei. Ventisei. Il tuo nome e il tuo cognome? Mattia Martini. Mattia. Come Mattia? Il maresciolo Mattia? Eh può essere. Allora senti allora un look devo dire molto sportivo assomiglia un po' a quello di Karate Kid. Eh infatti siamo fratelli. Quindi mi sei un karate anche tu no? No in verità io faccio calcio a livello amatoriale. Ho capito. Adesso senti dove sei? Io sono di Monfalcone e sono nato a Trieste quindi il piccolo uc. Ho capito ho capito. A Monfalcone cosa fai? Studi? Lavori? Io lavoro e studio presso una ditta navale. Sei un bravo ragazzo? Sì dai. Studi lavoro? Di giorno. Di notte? E di notte? Ci divertiamo. Sì comunque sempre in forma dai mi cerco di tenere un po'. Beh giustamente tu sei singolo? Sei fidanzato? No sono fidanzato. Infatti siamo venuti in due qui a senza le morose però. Ma dai ogni tanto. Cosa dicono le morose di questa partecipazione a un concorso di bellezza? Oggi sono molte ragazze sono? Vi sostengono oppure un po' di gelosia? Beh nel mio caso proprio mi sostiene visto che proprio abbiamo siamo venuti in due. Ah e quindi ah beh allora sei a posto. Allora goditi queste esperienze in tranquillità. Senti parliamo un po' di te raccontando un po' le cose così cose un po' simpatiche. I tuoi difetti dai perché i pregi ne parliamo dopo. I tuoi difetti? Beh come difetti diciamo sono un po' stravagante quindi tante volte sono visto un po' così. Ho capito. Mentre i tuoi pregi? Come pregi diciamo almeno sono divertente dai. La simpatia. Parismatico. Addirittura? Dicono di sì. Vabbè senti il tuo sogno nel cassetti. I sogni sono gratuiti giusto? Sì quello sì. Li possiamo dire quello che vuoi. Cosa vuoi diventare? Dillo qualsiasi cosa. Dio io punto essere pilota di macchine quindi spero dai. Hai già fatto qualcosa? Sì ho vinto diverse gare comunque. La macchina che vorresti guidare qual è? Qual è? Una Ferrari. Ferrarino? Eh quello sì ci sta. Vabbè arriverà arriverà. Va bene benvenuto amico mio. Quella è la super telecamera di Mattia Milazia. Adesso puoi dire e salutare chi vuoi. Pronto? Vai. Un saluto a tutti gli ascoltatori in generale. A tutti. Sì dai. Sai cosa dedichi invece a te? Dimmi. In bocca al lupo divertiti. Grazie mille. Ci vediamo. Ciao. 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 Grazie a tutti.